Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti così numerosi a questa serata. Permettetemi un saluto e un ringraziamento tra tutte le personalità presenti, per le quali mi scuso, almeno al nostro Vescovo Monsignor Valerio Lazzari. Anche al Vescovo Emerito, che ho visto poco fa, Don Grampa, e al Rettore dell'Università della Svizzera Italiana, Professor Boaserec, e anche al Professor Orsatti, che rappresenta per delega il Rettore della Facoltà di Teologia, padre René Roux, che si trova in questi giorni in Terra Santa, e dunque non ha potuto essere con noi, e ci saluta. Permettetemi anche una brevissima parola sulla Associazione Sostenitori della Facoltà di Teologia di Lugano. Come sapete, se non lo sapete lo dico io, la Facoltà di Teologia di Lugano è un gioiello, sia dal punto di vista scientifico che culturale, che pastorale. Un gioiello, non credo soltanto per la nostra diocesi, per tutto il Ticino, e forse anche per la Chiesa Svizzera e per il Paese. Un gioiello che la nostra piccola diocesi porta con giusta fierezza al collo, un po' come la croce vettorale del Vescovo. E trattandosi di un gioiello con la sua consistenza, e a volte anche un po' pesante, ha un suo peso, diciamo così, e alludo agli aspetti finanziari. Ecco che noi amici della Facoltà di Teologia cerchiamo di dare un contributo per sostenere il peso di questo gioiello. Aggiungo, visto che ne parlavo poco fa anche con il Rettore Erez, che anche qualora andasse in porto la auspicata, almeno per quanto mi concerne, integrazione della Facoltà di Teologia nell'Università della Svizzera italiana, i costi continuerebbero in buona parte o in gran parte a pesare sulla nostra diocesi, in quanto certamente il cantone non potrebbe assumerseli, se non in modo abbastanza limitato, almeno per alcuni anni. Come sapete, la Facoltà Teologica Luganese funge anche dal luogo di formazione per i nostri candidati al sacerdozio, e anche non soltanto della nostra diocesi, ma di diocesi un po' di tutto il mondo, attirati qui dal valore di questa facoltà. Il sostegno di questi giovani, che spesso non hanno grandi capacità economiche, è uno dei nostri principali obiettivi. Tutto questo per dire che se vorrete diventare soci della nostra associazione, lo spicchiamo, avete avuto all'entrata, credo, il pieghevole, con tutte le indicazioni per poterlo fare, contribuirete in particolare a creare delle borse di studio per giovani, futuri, sacerdoti, meritevoli ma bisognosi, di cui abbiamo anche noi bisogno. Bene, non credo ci sia bisogno di grandi presentazioni per una personalità come il Cardinal Scuola. Io ricordo solo che il suo percorso professionale pastorale lo ha portato ad essere rettore dell'Università Lateranense a Roma, la cosiddetta Università del Papa, poi presidente dell'Istituto Giovanni Paolo II per studi sul matrimonio e famiglia, vescovo di Grosseto, poi patriarca di Venezia, e infine arcivescovo di Milano, carica che ha lasciato circa un anno fa. Dunque un corteo di cariche gloriose che può far pensare a un ecclesiastico in carriera seduto comodamente su un treno inarrestabile di successo tra le sue scartoffie di filosofo e di teologo e le stanze del potere. La realtà, come vedremo già, scopriremo già questa sera, è tutt'altra la realtà della sua vita. Perché questa sera lo vedremo presentando il libro Ho scommesso sulla libertà, che è un libro di carattere autobiografico. Aggiungo che di clericale Don Angelo ha sempre avuto molto poco. Tra l'altro, forse anche perché ha, come dire, scoperto, ha secondato la sua vocazione sacerdotale già a una certa età, dopo i primi studi universitari, e poi forse anche perché l'educazione che ha ricevuto sin da ragazzo in Comunione e Liberazione è stato un forte antidoto a ogni forma di clericalismo. Io questa sera mi impongo comunque di mantenere in lei, perché che un moderatore dia e del tu a un ospite per giunta così illustre non sta affatto bene, nonostante la familiarità maturata in tanti anni di amicizia con lui, e questa amicizia è uno dei più grandi doni, questo lo devo dire, che ho ricevuto nella mia vita. Con Luigi Geninazzi, però, no, ma però è tu, anche perché oltre che amici da tempo siamo colleghi, e Luigi Geninazzi è un po' l'ostetrico di questo libro. Ha fatto nascere il bambino, no? Perché da giornalista ha fatto l'intervistatore del Cardina Scola e poi ha fatto la redazione, ha cercato, penso, di incanalare la fiumana di risposte, di contributi dentro i canoni di un libro. Luigi Geninazzi è stato per anni reporter di politica internazionale, per testate come Avvenire, come il Sabato e altre, in particolare dai paesi dell'est europeo. Tra l'altro ha scritto un bellissimo libro, Atlantide Rossa, uscito cinque anni fa, mi pare, proprio sulla fine del comunismo in questi paesi, e con prefazione niente meno che di Lech Wawensa. Parentesi, quando è uscito il libro, mi avevi promesso cinque anni fa che avresti portato Wawensa a Lugano per la presentazione del libro, ma finora non l'abbiamo visto. Comunque, siccome comprensibilmente dovremmo sacrificare un po' jazz, come lo chiamiamo noi amici, comincio però stasera da lui. Comincio da questo. Durante tutta la lettura di questa autobiografia c'è un leitmotiv quasi ossessivo, almeno io l'ho colto per il mestiere che faccio, ed è quello delle continue rampogne alla nostra categoria dei giornalisti. Giornalisti che per lunghi anni, stando al cardinale, ma io penso purtroppo che sia vero, gliene hanno fatte di tutti i colori, facendo circolare notizie false, tendenziose, creandogli un sacco di pasticce, ma al di là delle parole scherzose, credo procurandogli qualche reale amarezza, qualche ferita. Addirittura a un certo punto nel libro ci marchia a fuoco noi giornalisti. Dice questo, sconfortato, parole sue. Poi, per il giornalista si sa, la tentazione dello scoop è più difficile da vincere della tentazione sessuale. E tu, Gets, sei lasciato cadere, sei rimasto lì diplomaticamente, sei passato alla domanda successiva, ma cominciamo da qui. Ma siamo proprio questa vil razza dannata. noi giornalisti, a ragione il Cardinale, non potremmo, suggerisco un'autodifesa, mettere sul conto di quella sottocategoria dei giornalisti che sono i vaticanisti, che sono probabilmente i più perfidi tra di noi. Ma dunque, io credo che il rapporto del Cardinale con i giornalisti è sempre stato molto libero, quindi anche critico, criticato e critico, e dotato di grande ironia. La battuta citata adesso da te, citata da Claudio, lo conferma. Madre Teresa di Calcutta, sapete che diceva che lei aveva più paura quando si avvicinava un giornalista di quando doveva toccare, curare e avvicinarsi ai lebrosi, quindi questo è ancora peggiore per dire come è considerata la categoria. Ma no, io credo che stasera non farò, non intendo fare la difesa del corpo giornalistico, anche perché sarebbe un compito molto arduo. Come al solito, ci sono, nella biografia, nell'autobiografia del Cardinale, ci sono dei punti in cui, come spiegava Claudio, si sono create quelle che su eminenza chiama delle fake news, non lo so, ma comunque si sono ingigantite delle notizie. Io mi limito invece a dire una cosa positiva che c'è nel libro e che mi ha riguardato personalmente, perché anche io sono giornalista. A un certo punto, Angelo Scola dice che coi giornalisti è importante comunque il face to face, un'espressione non a caso inglese, perché lui l'ha sperimentata, perché in un viaggio a Washington è stato chiamato dal direttore del Wall Street Journal, a New York, scusate, dal direttore del Wall Street Journal, che l'ha chiamato per una lunga conversazione con tutta la redazione, con almeno i capi della redazione, ma non era un'intervista, domanda e risposta che si pubblica, proprio per conoscersi meglio. Io devo dire che ho avuto questa fortuna, questo privilegio di un face to face, di un faccia a faccia col cardinale. Claudio parlava di un lavoro da ostetrica. Sì, c'è una similitudine, perché in effetti credo che ci abbiamo lavorato su sodo nove mesi, anche se poi preparative e tutto forse sono di più di nove mesi, ma comunque il periodo di concentrazione è stato di nove mesi. E qui il faccia a faccia per me è stato importante, perché io conosco Angelo Scola da 50 anni, però devo dire che da oltre 25, da quando lui nel 91 è diventato vescovo, ci saremmo visti una volta ogni 3-4 anni per delle occasioni abbastanza formali, quando è diventato cardinale o cose del genere, quindi non c'è stata questa frequentazione. E mi ha colpito molto quando mi ha detto, mi ha chiesto se avessi voluto collaborare alla stesura di un libro, cosa che mi ha molto lusingato e allo stesso tempo spaventato, perché, oddio, la stesura di un libro, come diceva Fonbaltasar, a cui è dedicato un capitolo, di cui Scola è stato allievo e più che allievo un fedele discepolo. Quando uno ha scritto tanti libri, da dove partiamo per raggiungere il cuore del suo pensiero? E questa è la domanda che mi sono fatto anch'io, perché di libri di Angelo Scola ne ho letti parecchi, non tutti, perché sarebbe impossibile, ma ne ho letti parecchi, però alla fine mi sentivo inadeguato a mettermi lì a fare delle domande di tipo filosofico o teologico. Ecco allora l'idea che, devo dire, il Cardinale ha accettato subito di un'autobiografia, cioè del racconto di una vita. È molto importante perché il libro che abbiamo scritto non è un discorso, ma è un racconto. Angelo Scola ha accettato di raccontarsi e soprattutto di lasciarsi raccontare, visto che poi la scrittura era opera mia. Ha accettato di raccontarsi e quindi ci ha voluto del coraggio da parte sua perché troverete in questo libro tanti episodi inediti che anche io non conoscevo, che riguardano la sua gioventù, che riguardano un periodo doloroso della sua malattia, che è stata diagnosticata molto tardi, che riguardano alcuni screzzi con le autorità ecclesiastiche milanesi e anche, come dire, cose inedite che riguardano il rapporto dei tre pontifici, perché Angelo Scola è stato, diciamo, ha avuto un rapporto figliale molto forte con San Giovanni Paolo II, un rapporto che oserei dire più che familiare, direi amicale con Ratzinger e poi Benedetto XVI, è un rapporto interessante, direi, ecco, tutto da scoprire con Papa Francesco perché anche qui per tornare al discorso i giornalisti l'hanno di punto come una contrapposizione, mentre il Cardinale spiega bene questa cosa che a me ha molto colpito e cioè che lui lo sappiamo ma lo ammette apertamente, ha un suo profilo, un suo stile, un suo percorso culturale, intellettuale ed ecclesiale che è molto, molto diverso da un Papa che viene dalla fine del mondo, da Bergoglio che ha una formazione latinoamericana, eccetera, eccetera, anche se su alcuni punti ci sono dei contatti, per esempio Baltasar, Don Giussani, eccetera, però proprio in forza del voler essere se stesso si è messo in ascolto, in obbedienza di questo papato e dice una cosa molto bella, anzi dice due cose molto belle su questo Papa, così rubo subito il mestiere a Claudio se lo vuole chiedere. La prima è che ogni pontefice va imparato, va appreso, importante questo, invece noi ci mettiamo davanti come dire beh, adesso questo dovrebbe fare così, dovrebbe dirci così, visto che noi sappiamo bene cosa è successo prima, no, va imparato, e poi c'è un'affermazione che mi ha molto toccato, mi ha molto commosso su Papa Francesco, anche per l'esperienza che ha avuto di quella meravigliosa visita intensa del Papa a Milano, questo Papa, dice il Cardinale Scola, si vede che è uno che ha già messo in preventivo il dono totale di sé e guardate che non è una cosa semplice che è richiesta a tutti i cristiani, è richiesta ai vescovi, i cardinali e al Papa. Ecco, per concludere, perché io sono a Latere, adesso la parola passa giustamente al dialogo col Cardinale, è stato un racconto e l'ultima cosa permettetemi di dire, ovviamente non c'è solo l'interesse biografico, io dico sempre presentando questo libro che la vita del Cardinale Scola è un po' come un romanzo perché è piena di colpi di scena, di cose interessanti, però ovviamente non è che uno lo legge perché è interessato solo alla vita, in questa vita c'è un pezzo di storia della Chiesa, c'è un pezzo di storia della Chiesa, della società europea, ci sono dei giudizi molto profondi, ma ecco, torno all'inizio, a differenza di un discorso, questi giudizi diventano carne e sangue dentro il tessuto quotidiano della vita e quindi è stato un lavoro impegnativo ma un bel lavoro da fare e credo che questi giudizi stasera potremo riprenderli un po' assieme. Grazie. Grazie a te. Monsignor Scola, prima di entrare nel libro volevo chiedere qualcosa sulla situazione attuale della Chiesa, sulle sue divisioni. Papa Francesco durante il mese di agosto ha chiesto a noi tutti i cattolici di pregare con il rosario per cercare di arginare l'influsso del male con la M maiuscola proprio sull'unità ecclesiale. Cosa sta succedendo nella Chiesa se lo chiedono molti cattolici? Chiedo che la cosa inquieti un po' anche lei. ma fino a che ora è previsto che duri? No perché se tutte le domande facciamo un congresso di una settimana va bene. Un accenno così. Ma diciamo non va bene. Microfono? Va bene. Forse deve avvicinare. No forse. Forse no va bene. Così va bene. Però io devo tenere la schiena appoggiata perché ho un problema alla schiena. Così va bene. sì. E no perché il discorso sarebbe molto lungo e tutto sommato bisognerebbe risalire fino alla modernità e la cosiddetta secolarizzazione e mostrare che ormai siamo entrati in un'epoca post-secolare quindi che il progetto della secolarizzazione è fallito. Questo non vuol dire che sia un'epoca migliore. Il dato di fatto è questo qui ma non possiamo andare fin lì. Allora perché prima prima mi ha detto le cose lunghe cinque minuti le cose breve due minuti già uno è passato per dire dei giornalisti con i quali io generalmente ho un ottimo rapporto e devo dire che più sono di sinistra più un miglior rapporto quindi tu sei un po' destrosso e no di centro perfettamente al centro per restare all'attualità io penso che in ultima analisi al di là delle fragilità dei cristiani di tutti noi cristiani la difficoltà sta in una dialettica cioè una sorta di di scontro ma la parola è troppo forte perché comunque la comunione nella chiesa e l'unità sta reggendo tra un modo di proporre la verità come anzitutto una dottrina che va applicata alla vita e che genera quindi un dottrinalismo un concettualismo e che poi va contro l'esperienza di ognuno di noi perché tutti noi siamo come diceva Heidegger gettati nell'esistenza incontriamo circostanze e problemi che ci fanno riflettere tutti di noi diamo tutti noi diamo una risposta e poi questa risposta può essere resa anche sistematica e critica vedi il magistero la teologia ma la partenza non è il rovescio la questione io ti insegno la dottrina poi se tu la impari presto o tardi la applicherai alla vita non funziona le cose non funzionano così quindi da una parte c'è tutta una realtà che quindi se non vede la virgola che deve stare in quel posto lì già rischia di reagire di dire che si sta tradendo un cammino dall'altra parte c'è una una visione che riduce l'avvenimento cristiano al diciamo al farsi carico come ha fatto Gesù della croce di chiunque altro e poi stop cioè non si può derivare dall' adesione di fede non si possono derivare delle implicazioni a livello sociale culturale politico lì ognuno è libero di costruire come vuol costruire quindi scusate se il modo con cui l'ho espressa può essere un po' un pochino non immediato ma questo è quello che succede se si vuol dare uno sguardo sintetico alla situazione attuale quindi cosa romperà questa situazione perché questa situazione è destinata a finire cosa romperà romperà questa situazione la riscoperta da parte di ognuno di noi metto me anzitutto di Gesù come la la verità vivente e personale che viene al nostro incontro e da lì scaturirà il gusto e la bellezza di documentare nella vita personale e pubblica il dono di questa fede il dono del volto stesso amoroso del padre e della potenza dello spirito in questo uomo nato a Nazareth che ha aiutato i suoi e li ha accompagnati a entrare così in profondità nella sua umanità come dice il numero 515 del catechismo della chiesa cattolica che nella sua fase ridotta di compendio sarebbe da tenere sul comodino perché lì si imparerebbero molte cose si potrebbe farvi ricorso tutte le volte che c'è bisogno attraverso la sua umanità li ha condotti a recepire la sua anche la sua natura divina direi così penso che almeno grosso modo si possa essersi fatti un'intuizione poi dopo se si compra il libro che è la cosa principale se poi lo si legge anche magari si può capire di più il libro tra l'altro è lì avete visto all'entrata e tra l'altro poi il cardinale mi ha detto che firmerà volentieri anche gli autografi a chi volesse incontrarlo Gesù che ci viene incontro ci ha detto e lei insiste molto sin dall'inizio del suo libro sul tema dell'incontro dopo l'educazione cattolica in famiglia da parte soprattutto di sua madre ma anche di suo padre operaio socialista di qui anche il fatto che si trova meglio che i giornalisti di sinistra gli incontri con alcuni preti poi con alcuni amici giovani specie con uno che poi andrà missionario in Brasile di cui forse ci parlerà lei poi con Don Giussani e poi con tanti altri ne parleremo a un certo punto Geninazzi le chiede e qui vorrei proprio leggere brevemente potrà dirlo meglio ma forse meglio di così sarà difficile le chiede ma quello che è successo a lei deve succedere a tutti intendo dire non c'è cristianesimo senza incontro personale e lei risponde rego l'inizio io direi l'importante della vita è aver visto una volta qualcuno di decisivo credo cioè come ha detto genialmente Benedetto XVI nell'enciclica Deus Caritas Est che il cristianesimo non sia innanzitutto una dottrina ce l'ha appena detto un'etica ma l'incontro personale con Cristo all'interno della comunità che è la Chiesa a mio avviso aggiunge l'occultamento di questo dato fondamentale è all'origine del crollo pedagogico che la Chiesa cattolica ha avuto in Europa e che nemmeno il concilio Vaticano II è riuscito ad arrestare l'incontro ecco può tornare un momento su questo aspetto decisivo dell'avvenimento cristiano ma lì questo è il Vangelo cioè il Vangelo cioè non so se voi non avete mai fatto un'esperienza che se non avete fatto vi consiglio leggere corsivamente il Vangelo di Marco si legge in due ore isolate fate due ore dell'weekend prendete una buona Bibbia come la Bibbia di Gerusalemme le notte servono in parte in parte sono troppo tecniche per una Bibbia che va in mano a tutti e leggete il Vangelo di Marco che cosa c'è lì? Lì c'è una una trama di incontri no cioè Gesù nei primi due anni della sua vita fondamentalmente si è mosso in Galilea Bezaida Corazzin Cafarnao passati i primi due anni formatasi il gruppo fino a quel momento lì abitava probabilmente con Pietro o comunque con i suoi prende il gruppo attraversa il lago va di là e comincia i sei mesi della sua missione e dopo dice Luca indurisce il volto sale a Gerusalemme incontro al suo destino che conosceva molto bene quindi è una una vita certamente eccezionale per il comune correligionario di di quell'epoca ma tuttavia estremamente elementare da cogliere e cosa fa? Parte dal bisogno della gente sempre dal bisogno il cristianesimo deve partire dal bisogno e da questo punto di vista secondo me una radice solida della ripresa che ci sarà è fatta proprio dalle tante tantissime opere di carità che nella Chiesa Cattolica vivono magari non è sempre chiaro il per chi uno le fa non è sempre chiaro il motivo però sono un dato di fatto Gesù parte del bisogno e lo dilata per quanto è possibile e lui era figlio di Dio vi risponde guarisce gli indemoniati guarisce gli storpi i ciechi i lebrosi eccetera eccetera consola la vedova di Nain si stringe intorno alle due sorelle di Lazzaro accetta tranquillamente che una una donna diciamo penso di mondo entra in casa mentre sta mangiando gli unga i piedi con un olio profumato di cui Giuda dice potrà darci i soldi facciamo spesso anche noi trenti così anziché facci questo regalo se ci dava i soldi la cosiddetta busta come dicono i brevi ecco dopo la meritano perché è un sacrificio fare le cresime eccetera ma nel senso nobile della parola e si lascia asciugare i piedi un rapporto sconvolgente sconvolgente per per la classe elevata degli scrivi dei farisei cioè è una è la bellezza di una umanità esplicita un'umanità da cui trasuda per cui trasuda da ogni suo poro questa questa questo rapporto d'amore col padre che da altrove e intimamente lo ama definitivamente e lui gli rende questo amore umano divino con altrettanta immediatezza quindi perché l'incontro si certo ha un inizio la prima volta per noi ha un inizio ma nella sua dimensione profonda è destinato a permanere cioè per questo è triste senza non sto dando un giudizio morale ci mancherebbe altro è triste la facilità con cui si spezzano i rapporti affettivi è triste perché il rapporto affettivo ha dentro di sé un'urgenza di definitività un'urgenza di per sempre che è quella che consola nella vita San Bernardo diceva che certo c'è l'avvento iniziale del Natale c'è l'avvento del ritorno ma c'è anche l'avvento intermedio in cui Gesù entra nel nostro cuore e c'è di consolazione è una cosa dell'altro mondo quindi l'essenza del cristianesimo è questa qui dopo evidentemente vivendo si l'uomo si imbatte oltre che nella sua fragilità negli aspetti di fragilità che vengono dal di dentro di sé si imbatte nelle contraddizioni nella fragilità nella fatica del vivere sociale e così via allora lì sorgono le domande alle domande bisogna dare risposta ed è anche utile e necessario ecco il valore della teologia in dialogo con tutti gli altri saperi che si diano risposte ragionevoli da questo punto di vista ma senza dimenticare un dato che per esempio anche quando il cristianesimo nell'epoca diciamo fino al quarto secolo si imparenta con il logos greco si imparenta cioè con la la sensibilità razionale del mondo greco questo vuol dire logos niente di strano però è un logos amore cioè non è un logos che costruisce un sistema per afferrare la verità Agostino dice attenzione se lo comprendi cioè se lo parla di Dio se lo afferri totalmente stai attento che non è Dio perché Dio non può mica star dentro la tua testa quindi io io credo che noi dobbiamo ritornare a questo dato ritornare a questo dato che non esclude assolutamente appunto poi sia la dimensione della ricerca che la dimensione della sistemazione critica organica teologia ribadisco in confronto con tutti gli altri saperi perché la difficoltà della teologia di oggi è che è separata è separata ed è fatta da persone che leggono cento libri per fare un altro libro mi sono spiegato mentre bisogna interloquire con la vita e quindi i saperi ci aiutano a interloquire con il resto della vita però però con un però che è tipico della chiesa cattolica in modo particolare che Gesù non ha affidato ai sapienti all'intelligenza di umani ragionamenti la continuità sulla contemporaneità della sua presenza tra noi ma ha scelto dei pescatori quindi c'è un punto di riferimento che si chiama magistero un punto di riferimento ineludibile ineludibile che è tutta è come un alveo che tiene dentro un torrente questi guai che stanno succedendo in Italia in questi tempi di cui un torrente è secco per tre anni e improvvisamente in 24 ore spazza via case e ammazza persone ecco il magistero e l'alveo allora la Dei Verbum questa costituzione sulla parola di Dio del concilio dice che tradizione scrittura e magistero sono i tre assi per un cammino di libertà per un cammino di libertà questo è molto importante ci parlava adesso della contemporaneità di Cristo Cristo ci diceva ci viene incontro attraverso la comunità cristiana con degli incontri banali e semplici poi veniamo su quelli importanti con i personaggi importanti della sua vita però forse qualcosa di quel primissimo incontro che nel libro si deduce ad essere stato forse il più decisivo della sua vita ce la può dire sì è successo che nel 58 uno dei gli ultimi giorni di luglio mentre io guadagnavo qualche soldo facevo dovevo andare alla fine all'ultimo anno del liceo classico per mantenermi agli studi perché i miei non potevano evidentemente farsi carico totale davo delle lezioni allora in italia c'era ancora l'avviamento cioè c'era una scuola c'è la scuola media che avrebbe portato agli istituti superiori bisognava fare un esame molto complesso molto difficile forse l'esame più difficile che ho fatto in vita mia ma comunque e allora a certo punto sono il campanello e si affaccia uno un giovanotto come me che adesso è prete purtroppo ha un Parkinson terribile che si chiama Don Fabio il quale che io avevo conosciuto qualche volta in Grigna cioè la Grigna che è una palestra di roccia naturale è una delle montagne più belle che esistono anche se non è molto alta e questi giorni poi io la vedo da casa mia vedo il rosa da una parte la Grigna e il grignone dall'altra parte quindi sono fortunato certo il rosa è imponente ma la Grigna siccome la vedo più da vicino è infinitamente più bella in ogni caso io ho fatto anche il rosa quindi non devo stare indietro da quel punto devi stare allora lui mi disse ma sai ci sarebbe al Falzarego Dolomiti una settimana erano di più durante dieci giorni dell'azione cattolica dove si vengono fatte delle conferenze delle cose eccetera io ho questi ragazzi con cui sono impegnato poi sinceramente di sentire delle conferenze non ho molta voglia allora lui ha trovato ha usato una ghermina e ha detto ma sai diamo Dolomiti quindi possiamo fare l'anterà o possiamo fare il nuovo lao o si fa le conferenze e magari un giorno andiamo un giorno non andiamo allora sono andato lì ed è vero che effettivamente non siamo mai andati quasi mai andati alla conferenza per i primi sette o otto giorni soltanto che la sera dell'ultimo giorno il capo del campo che poi è diventato il cardinal Nicora forse qualcuno almeno di nome se lo ricorda ci ha fermato e ha detto voi avete fatto quel che avete voluto tutta la settimana allora domani vengono su da Penia di Canazzei cinque ragazzi come voi che hanno fatto un campo scuola con Don Giussani a Penia di Canazzei e li ho invitati a dire un po' cosa hanno fatto loro la loro esperienza eccetera però perciò vi raccomando di stare qui almeno domani allora noi siamo stati lì il giorno dopo siamo entrati in questa stanza un po' grande la casa era una casa della gioventù dell'ittorio fascista che poi attraverso abili strade cattoliche era finita in mano l'azione cattolica però era come la guerra l'aveva lasciata tutta sprecciata c'erano solo due bagni per 200 persone ci bisognava lavarsi nel cortile alla mattina presto insomma eravamo un po' in alto al falzargo e mi sono sempre rimaste in mente anche per adesso spiego il perché le lampadine che pendevano dal soffitto senza portalampade ma con quei nastri la maggioranza di voi forse non ne hanno conosciuti quelli della mia generazione sì attorcigliati dei nastri gialli che erano dei moschicidi su cui tutte le mosche andavano ad attaccarsi ed erano tutti neri questi nastri allora il Pigi adesso il Don Pigi da 50 anni in Favelas si è seduto ha cominciato a parlare ha detto questa frase se Gesù Cristo non c'entrasse con quella lampadina lì io non sarei cristiano e poi ovviamente ha spiegato come Gesù c'entra con tutto e come la nostra tentazione era quella invece di eliminare questo dato ecco per me quello lì è stato il momento dell'incontro che io chiamo sempre della riattualizzazione del battesimo e perché tutti noi quasi tutti noi l'abbiamo ricevuto da bambini nella fede dei nostri genitori o dei nostri padrini e allora dovremmo fare tutti appunto io ve l'ho detto in pubblico l'esercizio di tornare indietro nella storia e risalire al momento dell'incontro al momento iniziale dell'incontro perché allora il battesimo si riattualizzasse del resto ho tratto questa intuizione da Baltasar che in uno dei suoi testi scritto con Ratzinger per i sacerdoti dice parlando della vocazione dice più o meno testualmente io potrei ancora oggi tornare in quell'angolo della foresta nera sotto quella bete nel quale per la prima volta ho percepito con chiarezza che ero chiamato a servire virgola anzi questa è una cosa spettacolosa anzi ero preso a servizio perché noi siamo capaci di ideologizzare anche il servizio mentre se tu sei preso a servizio è un'altra cosa devi fare la serva devi fare quello che un altro ti dice quindi credo che questo sia bene la citazione di Baltasar ci permette di entrare in contatto con un'altra personalità un'altra persona che ha avuto con cui lei ha avuto un incontro Baltasar Ansurs von Baltasar per chi non lo sapesse è un un grande teologo svizzero lucernese ma che ha vissuto sempre a Basilea e che nonostante sia stato definito da uno come un altro grande teologo Henri de Libac un novello padre della chiesa o anche l'uomo più dotto del ventesimo secolo ha sempre vissuto ha sempre subito uno stracismo incredibile anche all'interno della chiesa per tutta la sua vita chi è stato Baltasar chi è stato Baltasar per lei ecco e magari anche perché questo stracismo ma anche lì è la logica dell'incontro io tu sai bene no che quando noi andavamo all'università noi che facevamo le materie umaristiche non eravamo dei frequentatori folli cioè non è che non avevamo questo impulso ad andare tutti i giorni come i mediciner che avevano comprato bianchetti anche l'automobile no la 600 rossa ecco per andare giù al perol tutte le mattine dovevano andare via presto con il gelo eccetera vabbè noi passavamo anche tanto tempo a casa oppure andavamo all'università andavamo in caffetteria prendavamo un caffè ce la prendevamo comoda poi in qualche modo gli esami ci aggiustavamo e una volta io andando lì prendendo in mano Le Monde ho visto un piccolo trafiletto nel quale si diceva che era fallito il tentativo promosso dall'Eguiù che aveva riunito un gruppo di teologi come Ratzinger come Baltasar come altri ancora c'era il fiammingo questo Valgrave eccetera altri ancora di creare una rivista teologica internazionale allora io sono andato su da Corecco che allora viveva una cosa lì al collegio lì dove andavamo a mangiare al Salesiano e gli ho detto ma senti proviamo a metterci dentro a tentare noi tu hai incontrato Baltasar qualche volta la commissione teologica svizzera andiamo andiamo da Baltasar e lui un po' come faceva sempre lui perché era tanto caldo passionale quanto riflessivo sempre faticato a capire come lui fosse capace di mettere insieme queste due cose così diverse dopo due o tre minuti ha detto vabbè andiamo e siamo andati quindi da lì è scattato il rapporto con Baltasar che vabbè è successo entrare nella vicenda di Comunio Baltasar ci mandò da Ratzinger quindi il rapporto con Ratzinger venne da Baltasar e Comunio è una rivista teologica che nacque appunto lì che nacque lì e che nacque si può dire dal punto di vista pratico con il rapporto di noi italiani cioè ovviamente infinitamente sotto i grandi teologi che che l'hanno pensata studiata penso al bellissimo editoriale del primo numero di von Baltasar che è sulla Comunio che andrebbe riletto una volta all'anno almeno per mantenersi in allenamento insomma e poi questo rapporto si è sviluppato abbiamo invitato Baltasar agli esercizi del 71 ai Sidel in un dialogo formidabile con Don Giussani mi ricordo il dibattito sul tema della croce e della risurrezione in un dialogo del pomeriggio tra Baltasar e Giussani era veramente uno spettacolo assistervi e questo rapporto si è andato approfondendo quando poi io sono andato a Roma Baltasar mi ha preso un po' come il suo segretario cioè quando aveva qualcosa da fare a Roma non volendo lui viaggiare mi telefonava e diceva vai là questo l'ha fatto fino al giorno prima della sua morte improvvisa perché stavamo organizzando la sua venuta per il cardinalato e lui mi dava delle indicazioni sulle persone da contattare a Roma eccetera ecco quindi dopo la frequentazione è aumentata quando io sono tornato a Friburgo nel secondo ciclo dal 79 all'82 e fece molti viaggi in Italia era sempre disponibile nonostante la potenza di personalità e di pensiero aveva molta cura della Johannes Gemeinschaft che aveva creato con Adrian Fospeier e che tuttora vive fatta per una realtà di preti una realtà di uomini una realtà di donne consacrate chiedevo perché questo ostracismo ma dunque lo ostracismo è partito c'entra con Adrian Fospeier ecco sì e lo ostracismo è partito un po' dal livello di clericalismo di quell'epoca lì ecco Adrian Fospeier era una donna sposata una grande è una grande mistica adesso qui siccome io sono un po' strabico da questo punto di vista sono un buon lettore di Balthas ma non riesco nonostante talune amiche insistano non riesco a leggere la Fospeier cioè dopo un po' mi stufo ecco non ci trovo tutto quello che queste amiche ci trovano ecco e lui che aveva anche cioè Balthas ha rifiutato la cattedra di Guardini a Monaco la Christliche del Tansham che è una cattedra prestigiosa Guardini aveva 7.000 8.000 studenti tutte le settimane a scuola mi sono sempre chiesto come facesse negli anni 30 senza il microfono comunque la faceva nella Ludwig Schirke che sta lì in faccia all'università gli hanno offerto quella cattedra lì gli hanno offerto una cattedra in Gregoriana ma lui ha detto no io voglio stare con i giovani e fece l'assistente degli studenti di Basilea incontrò questa donna straordinaria che con lui si convertì al cristianesimo che era protestante dalla chauffeont dalla chauffeont e questa donna non so che per essere rispettoso fino in fondo e delicato per costruire questa realtà lasciò casa sua il marito che era il secondo marito su una storia molto lunga che lei aveva sposato un po' per compassione comunque senza e questa cosa qui è la frequentazione tra Balthasar e lei per questo progetto siccome lui per attuare questo progetto avendo tentato in tutti i modi di condurlo avanti dall'interno della compagnia di Gesù alla fine gli fu detto da Jansen la superiore d'allora o lasci questo progetto oppure te ne vai lui ha scritto lì un testo stupendo sul valore delle rivelazioni private una cosa rivelazioni divine private una cosa fantastica e lasciò e allora insomma questa fu l'origine della questione poi su questa si innestò quando negli anni del postconcilio come dire la sua identificazione con De Lubac con Ratzinger eccetera in persone di destra ritorniamo al tema del dottrinalismo eccetera che è quanto di più lontano c'è da Baltas e da Ratzinger eccetera e scrisse lui stesso or della fine quando dovette difendersi sulla questione dell'inferno scrisse che ho subito tanto dai progressisti ho dovuto portare tanto peso e marginare progressisti ma la quantità di letame che hanno saputo buttarmi addosso i conservatori era inimmaginabile per dire come è andata la questione ecco ma a proposito dell'inferno eh io credo che Baltas sia conosciuto e universalmente conosciuto proprio per la sua presunta affermazione secondo cui l'inferno sarebbe vuoto questo è tipico del giornalista questo appunto stavo per dire tipico del giornalista questa è la versione che è stata diffusa dalla stampa purtroppo ma la chiudo velocemente perché c'è un bel passaggio dove lei sistema la questione a pagina 79 dice in realtà il suo pensiero è stato travisato e banalizzato non voleva affatto negare l'esistenza dell'inferno come luogo di eterna condanna ma ribadire in linea con la dottrina tradizionale che è lecito sperare nella salvezza per tutti parlava di possibilità non di certezza in questo senso l'inferno potrebbe anche essere vuoto ma ciò non significa che non possa essere proprio io il primo ad andarci restiamo anche nelle fake news e qui entriamo in un'area molto delicata forse la più delicata perché so che vige il segreto per quanto riguarda i colloqui e le votazioni dei conclavi lei è stato presentato sempre da questi malefici vaticanisti come il concorrente del cardinal Bergoglio al conclave come il candidato come il candidato a tal punto che gli stessi giornalisti dell'ufficio stampa della CEI hanno mandato un telegramma di congratulazioni pubblico per la mia elezione questi non sono i giornalisti questo è l'ufficio dei veri adesso non ho proprio tutti tutti i peccati però insomma il vero rivale sarebbe stato ecco per quello che può dirci cosa c'è di vero in tutto questo niente di vero c'è in tutto questo se non delle congetture i giornalisti sono uomini liberi possono fare tutte le congetture che vogliono mi ricordo che il mio uomo dell'ufficio stampa che adesso è diventato preosto di lecco mi portò un giorno due pagine del tablet che è il giornale che ha almeno 130 anni di vita inglese in cui c'erano quei quei cosi lì che fanno adesso li fa anche il Corriere della Sera sulle letture quei disegni e insomma quel giornale lì incrociava una serie di cerchi e di controcerchi per individuare lo scopo per individuare chi sarebbe diventato papa e effettivamente metteva al centro del cerchio principale la mia persona i bookmakers si lo davano anche i bookmakers lo 10 a 1 ma va bene uno poteva congetturare quel che voleva c'erano quelli che teorizzavano che Ratzinger si era dimesso che tanto sapeva che sarei diventato io quindi ci sarebbe stata la continuità ora io e qui si può andare a si possono rintracciare le mie dichiarazioni i giornalisti quando mi interpellavano nei giorni prima del conclave mi dicevano questo guardate non ci sarà un papa europeo la situazione della chiesa delle chiese in europa è di tale difficoltà e di così potente travaglio che è impossibile che la provvidenza destini un papa europeo quindi prima di andar via perché si usa anche a venezia quando ci fu conclave che è l'espaolo benedetto sedicesimo c'è un saluto con tutti quelli che sono in curia che lavorano in curia nella sala della curia si sono incontrati tutti abbiamo detto insieme una preghiera allo spirito santo siamo impegnati a pregare per il conclave e poi qualcuno fece una battuta di quello gli disse la questione dell'europa e gli disse salutando gli stati tranquilli che non sarò sicuramente io quindi non abbiate problemi quelli che sarebbero contenti se io partissi purtroppo saranno delusi quelli che sono contenti che se pensano che io ritorni hanno buona ragione per essere contenti perché ritornerò senz'altro qualche un mese o due fa un uomo insospettabile come il cardinal Casper parlando in un'intervista degli ultimi due conclavi ha esordito così mentre nel conclave del 2005 che era esso benedetto sedicesimo un candidato si profilava prima ancora dell'inizio del conclave siamo entrati nel conclave del 2013 senza nessun candidato e questa è la verità dopo quel che si è svolto dentro quello non lo posso dire ma le cose sono così e sono andate così in questo senso insomma adesso fake news è scomodare troppo perché le congetture sono legittime però non c'era nessuna base ed è uscito Papa Bergoglio del Papa Francesco Papa Francesco lei qui c'è un capitolo uno degli ultimi in cui parla di lui del suo rapporto con Papa Francesco ma ha questa battuta sintetica Papa Francesco dice è stato per me è per me un salutare colpo allo stomaco per le chiese d'Europa in che senso nel senso che nel suo stile e nel suo magistero poi chiarirò in cosa consiste il suo magistero ha come messo a nudo l'inconsistenza clericale formalistica del nostro modo di noi mediamente parlando non giudizio sui singoli ovviamente del nostro modo generosissimo di vescovi di cardinali di vescovi di preti anche di fedeli laici impegnati di vivere la fede ma separato dalla realtà fuori da una capacità di di interazione con gli uomini e le donne del nostro tempo soprattutto con i giovani siamo e siamo rimasti ancora speriamo che questo Papa ci aiuti un po' a cambiare una siamo chiese formali poi ci sono esempi stupendi di santità se avessi il tempo anche a Milano gli ultimi mesi per esempio questo questo ragazzino su cui hanno fatto non solo quello che sta per diventare beato questo Acutis che ha dato la sua vita a 14 anni come come la data ma anche un altro di cui non so dire il nome e gridalo inziché a dire il mio quello che parla Marco Gallo grazie che dopo che è morto hanno scoperto una serie di carte di biglietti di e questo qui aveva scritto sulla parete della sua stanza la sera prima di essere di di restare vittima di municente stradale di municente stradale perché cercate qui colui che è risorto oppure una donna di 35 anni morta di cancro tre settimane dopo Pasqua che ha voluto venire affaticatissimo a trovarmi il giorno di Pasqua e 20 minuti di dialogo ha parlato solo solo di come poteva aiutare suo marito e quelli che avrebbero dovuto accompagnare i suoi figli molto piccoli non ha detto una sola parola sulla sua malattia sulla morte che era evidentemente imminente e piena ma per citarne solo taluni ma ne potrei citare decine insomma quando dico formalismo delle nostre chiese non voglio negare non entro ovviamente nel giudizio della fede e del livello di santità di tantissimi cristiani per altra cosa che che non vi posso togliere dalla mente in tutte le sedi in cui sono stato alla fine della messa vedere arrivare magari zoppicando come comincio a fare un po' anch'io ormai due vecchietti un uomo e una donna che con un sorriso ti dicono eminezza sa che ieri abbiamo festeggiato 70 anni di matrimonio e io dico ma ditelo ditelo ai ragazzi ditelo fate capire la bellezza di questa cosa fate capire che non si può sostituire la tensione alla bellezza piena dell'amore con la sete di infinito che è dentro lì con una serie indefinita e interminabile di rapporti dopo lasciamo stare la fragilità questa è un'altra cosa la fragilità il peccato è un'altra cosa quindi però Papa Francesco il suo stile parla si diceva lo diceva anche Lacan che lo stile è l'uomo quindi e questo magistero io l'ho identificato così lui il suo magistero è un impasto di quattro fattori ma noi malati di intellettualismo e di trono di trono di trono trono facciamo fatica a capirlo esempi la nonna eccetera eccetera gesti gesti piglia su e andare improvvisamente la nostalgia di non poter essere più un Papa a Callehero non poter andare dove vuole lui però tante rivincite se le prende se le prende anche perché se le prendeva anche Giovanni Paolo II abbiamo saputo dopo che è morto che tutte le settimane andava a sciare insomma si metteva su una giacca avventura l'ha riconosciuto solo una volta un bambino un bambino a sua come si chiama lì Pian Liberatore in cui ho cominciato a dire il Papa il Papa il Papa ecco ma nessuno l'aveva conosciuto quindi esempi gesti gesti cultura di popolo cioè non dimentichiamo che Bergoglio è stato l'artefice con un gruppo di collaboratori della paziente lenta e straordinaria evoluzione dalla teologia della liberazione alla teologia del popolo cioè ha una capacità di considerare che il destinatario dell'annuncio cristiano è il popolo di Dio chiamava il pueblo fidel il popolo dei fedeli cioè è un essere immediatamente rivolto alla cultura dell'incontro lui la chiama così messa prima di ogni altro tipo di approccio al fatto cristiano come tale e soprattutto dell'approccio dottrinalistico deduttilistico senza per questo venir meno in tutta la sua sostanza alla alla profondità e alla alla pienezza all'integralità del del Vangelo quindi questo è il terzo elemento e lì si vede benissimo l'influsso di certi teologi americani tra cui una donna di cui non riesco assolutamente a ricordare il nome a cui sono una filosofa a cui sono affezionato perché ha scritto un articolo molto bello sul meticciato io l'ho scoperto dopo aver cominciato a parlare di meticciato tirandomi addosso una quantità enorme di critiche e oltre che di taluni e poi il magistero in senso specifico in senso proprio come le encicliche e le esultazioni apostoliche dimostrano insomma quindi il suo il suo insegnamento è fatto per me è una mia idea questa di questi quattro fattori e a mio parere questi quattro fattori hanno un esito diremmo io mi permetto nel libro soltanto di dire non è una critica ma è come però forse è un pallino mio che in certi momenti mi ricorda un po' quando io al primo anno di università sono andato a fare una settimana di esercizi nella casa dei gesuiti allora era dei gesuiti adesso la diosia di Triugio e c'erano due gesuiti molto famosi all'epoca padre padre Bettana e padre Rosa che secondo la logica in sé in sé geniale degli esercizi perché l'operazione che Ignazio ha fatto l'operazione che Ignazio ha fatto come dire ha una operazione analoga il partire dalla vita lui ha detto basta con questi discorsi cioè lavoriamo su noi stessi sul nostro rapporto con gli altri sul nostro rapporto con Dio proprio mettendoci in gioco integralmente ecco però l'impianto gesuitico mi ricordo che le omelie di questi grandi gesuiti molto famosi nella zona Lombarda Milano e alla fine finivo con un due tre quindi adesso fate così 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 ecco io mi sono permesso di dire mi piacerebbe qualche volta non è che non lo faccia ma che il Papa parlasse un po' di più della libertà mettesse un pochino più in gioco la libertà perché Gesù che è la grazia parla alla libertà non alla natura dell'uomo non indistintamente parla a me parla a te parla a te quindi questo è il punto della questione ecco qui io desidererei di più però dopo altre cose sono come dire l'interpretazione politica però in senso riduttivo lo sto dicendo del pontificato e questa contrapposizione che che si è creata con i papati precedenti che secondo me non ha ragione di essere non ha ragione di essere e che ci riporterebbe la prima domanda se avessimo il tempo di andare dentro più in profondità e velocissimamente i vostri rapporti oggi come sono io tutte le volte anche lì se faccio come il papa ha dovuto rinviare due volte l'ha venuta a Milano sì l'ha venuta a Milano di un anno ma una prima volta doveva fare una messa al policlinico e Gemelli essendo io presidente del Tognolo ero presente ha avuto un malore all'ultimo momento lieve leggero e mi ha fatto telefonare di fare io l'omelia siccome lui aveva già mandato attraverso l'ufficio stampa la sua omelia io ho letto la sua omelia ma subito è stato eh non voleva incontrare scole per quello che non è andato queste cose qui no dopo la seconda volta è successo che siamo andati con il sindaco e la Bracco la responsabile di Espo per invitarlo ad Espo e anche lì non è venuto all'ultimo momento allora la cosa era diventata così una un siamo impeccati i giornalisti possiamo anche penso che abbiamo l'abbiamo già detto tutto il possibile era per arrivare nel vostro rapporto nel vostro rapporto è stato è molto bello tutte le volte che io domando mi riceve immediatamente tante volte telefona anche per avere un parere su questo su quello e così insomma anzi devo dire che la prima volta che sono andato mi ha detto io penso di essere uno dei pochi che ha letto il suo mistero luziale fino in fondo che ha resistito fino in fondo ecco quindi questo è un elogio cattivo no 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 un elogio no una sincerità ma si un elogio sincero i miei libri i miei libri tranne di poter contare su tranne questo perciò dovete comprare tranne questo sono un po' difficili andiamo avanti questo non è difficile lo giuro questo non è difficile andiamo avanti con gli incontri ci dico qua due parole su quegli anni stupendi così lei le definisce che ha trascorso a Friburgo dove incontrò una persona a noi molto cara Don Eugenio Corecco diventato poi il nostro vescovo e con il quale poi fece vita comune in quella famosa studentata di Avenida Gambacca sì due parole sì due parole due voi avete conosciuto Corecco come lo chiamava Giovanni Paolo II il vescovo teenager il vescovo teenager sembrava sempre per il ciuffo sempre giovane temperamento molto diverso dal mio non sono mancati tra di noi momenti dialettici di incomprensione ma con una con una energia con una capacità di abbraccio dell'altro nella sua diversità tra l'altro lui mi ha dato proprio una grossa mano nel momento delicato della mia malattia prima che ci fosse la diagnosi di Addison aiutandovi cioè proponendomi di andare di ritornare a Friburgo come assistente di ÖFE ma dicevo che Corecco si è visto nel come ha parlato al suo popolo della sua sofferenza e della sua morte imminente questa è una cosa io chiedo al Signore di essere capace di imparare un po' prima che arrivi il momento ma ho dei dubbi riconoscendo però devo dire che nel libro il capitolo sulla malattia e la sofferenza è un bel capitolo ci è riuscito anche lei in qualche modo è sulla buona strada mi soffermo su questo aspetto perché posso scusate no volevo solamente aggiungere parlando parlava la solminezza di Monsignor Corecco che mi ha colpito forse non sono riuscito a renderlo bene quanta Svizzera c'è in questo libro quanta Svizzera c'è nella sua biografia perché c'è tanta Svizzera nella mia vita infatti è un periodo davvero stimolante perché ha scoperto finalmente ne ha trovato una diagnosi a Berna ha passato il periodo che doveva essere più duro in Italia perché giovane prete malato l'establishment di Milano lo teneva un po' alla larga si è rifugiato a Friburgo poi andava a Basilea cioè è una cosa noi lo dico scusate non linciate ma insomma da italiano la Svizzera può venire una roba un po' noiosa invece qua è un periodo lo chiedo a sua eminenza è un periodo assolutamente stimolante ed eccezionale ma per quello che vengo sui personaggi svizzeri e tra l'altro fu proprio un medico ticinese che operava allora a Berna a fare la diagnosi giusta di questo introvabile morbo di Addison che per sei anni la tene in una situazione seriamente di disagio profondo ma Beretta Piccoli si può dire Carlo Felice Beretta Piccoli certamente è scomparso prematuramente una ventina di anni in montagna in montagna mi soffermo su questo aspetto che di solito si copre comprensibilmente con il riservo perché appunto come come Don Correcco volevo proprio notarlo lei lo affronta personalmente diffusamente in questa autobiografia mi colpiva però in particolare come in questo capitolo lei torna ripetutamente sul tema del corpo dell'attaccamento al proprio corpo e della difficoltà a pensare di doversi staccare dal proprio corpo addirittura lei parla dell'interrogativo che l'ha tormentata a lungo su come possa questo nostro corpo risorgere interrogativo che esplode ma qui ce lo racconta lei è meglio in occasione della morte di suo fratello eh sì questo è un problema con cui lotto ancora cioè io non ho nessun dubbio che il nostro destino spero di farcelo anch'io sia il paradiso che per me trova la sua definizione più potente per quanto l'uomo possa dare nell'affermazione di Paolo staremo sempre con il Signore ognuno di noi vive ultimamente devo questa intuizione a Marion con insomma non gli basta la certezza del pensiero come dice Cartesio non gli basta perché questo non ti fa incontrare l'altro Marion dice che la domanda ultima radicale che ognuno si porta dentro che la dica o non la dica non conta ma funziona è da altrove altro altrove qualcuno mi ama ecco quindi e San Paolo dice che in paradiso saremo sempre con il Signore e quindi con tutti i nostri cari con tutti i fedeli e noi speriamo come Baltasar e come Santa Teresa di Teresina di Ligio sta lei a dire questo che si poteva si può sperare per tutti insomma quindi il distacco dal corpo come dicevo il distacco dal corpo la questione del corpo è legata anche alla vicenda di la questione del corpo si tradisce cioè noi adesso siamo qui come comunichiamo col corpo no io guardo le vostre facce vedo vedo chi comincia ad essere un po' stanco vedo chi è interessato vedo chi conviene con quello che vado dicendo chi dentro qualche punta di scetticità perché quando ci incontriamo ci diano la mano scatta il pregiudizio che è inevitabile pregiudizio scatta da come l'altro ti sembra o non ti sembra guarda quello lì guarda questo qui eccetera cioè il corpo è il sacramento diceva San Giovanni Paolo II secondo di tutta la persona di tutto l'io Gesù stesso si è fatto riconoscere come Dio Dio citavo prima 515 del catechismo attraverso la sua umanità attraverso un'umanità così potentemente deintensa e capace di amare di essere genesi di un amore definitivo che lentamente hanno dovuto arrendersi al dato di fatto che era il Messia che aspettavano insomma quindi ora io io fatico a praticamente insomma anche perché come dicevamo una volta con il mio amico Albacete che forse qualcuno di voi ha conosciuto che è morto prematuramente due o tre anni fa una volta che lui era il rettore dell'Università Cattolica di 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 Washington no negli Stati Uniti di Porto Rico è nato Porto Rico ha lavorato la NASA poi si è convertito si è fatto prete eccetera e il rettore sono andato per fare delle conferenze al sabato mi ha portato in una in una casa su una spiaggia stupenda di quelle lì in cui ti sembra che vengano fuori delle isole dal mare invece sono solo alberi rami di alberi attorcigliati che poi si riempiono di verde insomma comunque a un certo punto entrambi negati per il nuoto eravamo comunque usciti a entrare con l'acqua fino qui e ci avevano passato un non drink di aperitivo e mentre lo sorseggiavamo lui disse sì sarà pure una valle di lacrime ma ci si piange bene e allora io sono un po' di quel partito lì insomma capisci e quindi faccio fatica all'idea di sono come mio padre quel punto di vista lì che ha contribuito molto poco la mia educazione cristiana a differenza di quello che hai detto tu però ero un uomo giusto un uomo solito soprattutto la mamma la mamma ma andava in chiesa anche lui alla fine sopra gli 80 quando la mamma è riuscito a farlo trascinare su in qualche modo però non era del fatto che mia madre andasse a fare la comunione tutti i giorni diceva sempre nel nostro dialetto lombardo ma anche a voi comprensibile jettocch comunion strasà comunque per dire quindi io sono attaccato purtroppo e tristemente sono attaccato a questo mondo a me sembra che è bella è bello il momento che stiamo vivendo insomma avendo già l'età che ho mi preoccupo un po' che la cosa non possa durare fino a poter vedere risorgere il diverso come sta risorgendo Milano Milano dal punto di vista dell'essere città in sei anni è una cosa splendida è una delle vere metropoli d'Europa Milano diversa da Londra da Parigi ma non inferiore come qualità come forza quindi e poi c'è stata per me tu hai scelto già l'esperienza di mio fratello perché quando ho dovuto fare il riconoscimento a parte grave avevano era morto in un incidente stradale improvvisamente poco più che quarantenne sì e gli avevano coperti tutte le parti più devastate del corpo con degli stracci presi dall'automobile eccetera all'obitorio e l'hanno dovuto tirare lì per farmelo vedere io vedendo la faccia distrutta l'addome squarciato tutto il resto a un certo punto mi ha salito e pensato ma questo risorge questo risorge e poi ho capito che la risurrezione non è dopo dopo la rianimazione di un cadavere è entrare nel nostro vero corpo che quindi ha un nesso con questo corpo è vero che risorge questo corpo ma risorge nella sua verità piena nel vero Lazzaro risolto per morire Gesù è risorto insomma è risorto e noi risorgeremo come Gesù e saremo quindi il corpo ha un'importanza decisiva cioè i fenomeni diciamo di costume sarebbe bello avere il tempo di parlare della decisività del costume e del fatto che la crisi e il travaglio che stiamo attraversando è la crisi dei costumi la crisi dell'educazione la crisi dei costumi non riusciamo più a passare uno stile di vita attraverso i costumi non attraverso i discorsi cosa vai a dire un ragazzo con 14 anni oggi non devi qui non devi là non devi solo te la fai in mille modi mi spiego non è quello lì il problema è però che deve passare chi sei deve passare un'umanità purtroppo questo non avviene sempre con sempre maggiore difficoltà quindi poi anche un'altra cosa che mi ha portato a riflettere molto sul peso del corpo è stato il coma insomma l'esperienza del coma che non è un dormire insomma adesso è un'utilità se hai comprato il libro la città però c'è una perla delle più belle in questo libro è proprio in questo alla fine di questo capitolo sulla sofferenza e sulla malattia dove Geninazzi fa una serie di domande sul tema della morte e a un certo punto le chiede se lei giunto a questa età pensi spesso alla morte la sua risposta mi ha veramente colpito e ho detto la verità che ci penso tutti i giorni sì ma non soltanto questo cosa ho detto Dato lo devo prendere dal libro no circa la sua preghiera quella della preghiera che le viene di fronte alla prospettiva della morte si vede che non ero convivo a me no ma la mia età si dimentica io prego dicevo adesso che l'attre ah sì sì adesso sì prego che il il desiderio di cui parla parlano i salmi parlano i profeti di vedere il volto del padre abbia il sopravvento sulla preoccupazione uggiosa di dover morire perché diventa uggiosa cioè la morte va in parallelo con il peccato più diventi vecchio più il peccato si ripete non è che ti lascia mi spiego solo che ripetendosi diventa noioso quindi ti da uggia mi capisci con la morte è un po' così secondo me è la mia esperienza più passano gli anni più più il peso che che si fa sentire fin dall'inizio no pensiamo ai grandi di ogni tipo che hanno parlato della morte non lo so io ne esco come un rapinatore che ti coglie nella notte il coso o quell'altro adorno che dice che in questa società non ti ha parlato della morte tanto si crepa e basta e invece la bellissima preghiera di Rilke dà un signore a ciascuno la sua morte personale la morte che corrisponda alla sua vita e che renda piena e vera la sua vita però il peso della morte lo senti fin dall'inizio no Platone fa dire ad Aristotele che ogni bambino che nasce dice al padre fatti in là perché adesso tocca a me capisci quindi quindi non si può non pensarci tutti i giorni poi io ho un po' anche una certa tendenza ipocondriaca di fronte a tutti i sintomi che la vecchiaia porta con sé insomma sono portati arrivato a quest'età almeno l'ammette sì sì fino a qualche anno fa è difficile che fatti no no sono vere queste cose sì sì sono vere questo sì vabbè insomma la speranza del il tuo volto signore io cerco questo è un grande perché fammi vedere il tuo volto insomma questo lo devo dire perché è un credito che ho un paio di giorni prima che morisse sono andato a trovare dove era casa di sua nipote Don Gianni il vescovo Lanzi che era praticamente già in coma e c'era con lui un medico che lo teneva per mano e ho celebrato la messa lui era completamente al suo letto lui era completamente assente arrivati alla consacrazione ha avuto come un impeto non oserei dire di risveglio ma ha come tentato di rizzarsi come e io in quel momento lì ho pensato che lui sarebbe passato dalla mano di questo medico di questa donna medico alla mano del padre che lo aspettava solo a un millimetro solo a un millimetro al di là di quel che noi potevamo vedere toccare insomma appunto l'altrove diventerà un presente l'altrove da cui siamo amati fin da quando siamo concepiti diventerà un presente per questo senza entrare nelle questioni di biopolitica di bioetica a me la scelta del suicidio assistito prima ancora di farmi dire che ogni flatus ogni ultimissimo fiato di vita va difeso mi dà un'immensa un'immensa tristezza quando si è trattato di riaccogliere a Milano questo DJ di cui tutti hanno discusso e parlato che era andato appunto in Svizzera e ovviamente c'era qualcuno che tirava fuori il fatto che non si poteva fare il funerale non si poteva qui non si poteva là e io invece ho detto che per lui e per quelli suoi per i suoi che restavano per questa sua fidanzata per la mamma eccetera si doveva si poteva pregare senza fare la Santa Messa perché questo implica un'adesione esplicita implica un non agire contro non agire contro ecco e infatti la chiesa era piena il parroco lì è stato molto bravo ha letto un brano di Giobbe ha fatto pregare tutti perché ti resta dentro un dolore un dolore senza voler dare giudizi di carattere etico e quindi non so ho aggiunto questa cosa colpisce anche un'altra cosa che le pagine che lei dedica alla psicanalisi non in astrato ma riconoscendo di e anche questo non capita sempre ma ha avuto un precedente Papa Francesco riconoscendo che lei ha attraversato un periodo di terapia psicanalitica perché questa difficoltà parlarne di solito perché lei ne ha parlato invece si direbbe volentieri adesso i tempi sono cambiati anche nella chiesa cattolica adesso c'è il rischio del rovescio ma quando sono andato io in analisi nel 75 era ancora una cosa strana insomma anche perché si pensava il rapporto tra la fede e l'analisi in termini appunto concettualisti come se si dovessero mettere d'accordo due saperi e stante la professione la professione diciamo esplicita di ateismo da parte di Freud questo soprattutto nel mondo ecclesiastico faceva problema invece la psicanalisi è una pratica non è mica anzitutto una dottrina e quindi come dire io ci sono andato un po' per provarle tutte insomma nel senso che siccome non si capiva niente una volta venne a trovare un incontri che è quello che ha fatto conoscere Lacan in Italia ha tradotto per primo Lacan e mi disse ma guarda visto che tanto energie per fare per ritornare ad un'azione pastorale diretta come prima non ce le hai perché non provi anche da quel punto di vista lì sono certo che ti può aiutare come ha aiutato me eccetera ovviamente ho fatto un'analisi di come si chiama didattica io insomma una cosa diversa e allora ho detto perché no e io devo dire che ho tratto un grande giovamento nella conoscenza di me stesso e poi anche un grande giovamento dal punto di vista non mi piace usare questa parola ma purtroppo è l'unica che si può usare dal punto di vista pastorale perché questo mi ha permesso di dialogare con le persone soprattutto le persone in difficoltà con più consapevolezza io non sono uno psicanalista non sono però avendo guadagnato una conoscenza di me di un certo tipo mi è parso di essere riuscito molte volte a interloquire anche con situazioni estremamente complesse aiutato anche da questa esperienza che io ho fatto oggi dicevo c'è un po' rischio del contrario siccome la psicanalisi è molto lunga molto faticosa e anche molto costosa allora si è tentato si sono cercate molte forme per concentrarla ho visto che adesso c'è anche un libro di questo che va tanto di moda questo recalcati che parla appunto della psicanalisi breve eccetera cosa così cosa che a me non piace e allora adesso tutti fanno gli psicologi tutti sono psicologi tutti curano ma lì io consiglio sempre a tutti c'è una cartina torna sole che ti fa capire lo psicanalista del quale ti metti in mano che parla pochissimo io la mia analisi è durata quattro anni e sei mesi io credo che mettendo insieme tutte le parole che in quattro anni e sei mesi il mio analista mi ha detto non fanno un'ora non fanno un'ora quindi se avete figlio se siete voi stessi in cura guardatevi bene dagli psicanalisti e dagli psicologi che vi danno i consigli io devi fare questo devi fare questo devi fare questo date via subito cambiateli cambiateli se fanno così perché perché sei tu il punto sei il soggetto il punto questo è il grande assente da tutto non è il soggetto il punto un soggetto per esempio come il vostro cioè venire in quattrocento a investire una sera così in cui per giunta gioca l'Inter gioca l'Inter tu lui non lo sa la Juve ha giocato l'Inter cosa c'entra scusate la logica io ti dico ma qui sono tutti milanisti infatti io sono milanista è milanista anche il cardinale no per dire questo è già un segno di un soggetto che c'è la chiesa di Lugano c'è mi spiego è un soggetto che c'è e quindi così come i preti che si ammazzano dalla mattina alle sette fino a mezzanotte sono un soggetto che c'è dopo uno sta lì seduto bello così impancato anche durante la messa dove dovrebbe stare così con le mani giunte in ginocchio anche durante l'omenia e dice ah cosa dice quello lì io non vado più lì vado là e fanno chilometri chilometri andare a sentire il bravo predicatore che magari è uno che è un retore un retore ma poi se vai alla sostanza magari non ci trovi sotto niente sono tutti così ecco perciò è il soggetto il cambiamento parte dal soggetto personale e comunitario le due cose sono indisugnibili e la chiesa è questo per questo io dico nella prefazione e introduzione che ho scritto questo libro oltre per superare il mio disordine che non mi ha fatto conservare niente di tutte queste cose che ho un po' rivelato ma soprattutto per l'amabilità della chiesa per dare alla chiesa il suo per dire che la chiesa è bella indipendentemente dai peccati anche terribili di noi uomini di chiesa la chiesa è amabile e bella questa cosa l'ho imparata a 18 anni leggendo un grandissimo libro che consiglio ancora oggi Meditazione sulla chiesa di Delebach un grandissimo libro quindi questo mi sembra ma mi sembra che abbiamo finito no non abbiamo finito no almeno cioè va bene evidentemente mettiamo il nostro pubblico nella condizione di sentirsi obbligato a comprare il libro leggersi il capitolo più lungo se non mi sbaglio proprio su quello del suo rapporto con San Giovanni Paolo II che è stato stupendo per non dire anche dell'amicizia dell'amicizia con lui ma dell'amicizia anche con Razzi che è il Corpapa Benedetto ma è vero il tempo adesso stringe però almeno saltando tutti i passaggi lei diventa vescovo nel 91 vescovo di Grosseto fatto da fatto vescovo da Giovanni Paolo II che poi la sposta a Venezia ma a Venezia succede qualcosa che ci dà spunto per almeno un'ultima breve riflessione tra le altre cose tante lei crea Oasis che è un centro di studi di ricerca oltre che una rivista che si occupa di comunità cristiane nel mondo musulmano ma proprio mette a tema anche il rapporto cristiani musulmani e lei se ne è uscito con quell'espressione con quel concetto di meticciato di civiltà che in tempi come i nostri dominati da comprensibili paure e terrori per quello che l'Islam nella nostra immagine ma non solo la nostra immagine anche la realtà purtroppo rappresenta ha avuto il coraggio di parlare appunto di addirittura di parlare di Europa inevitabilmente meticcia ce lo spieghi brevemente questo suo atteggiamento questo ci dà il modo anche di di ridire una parola ancora più esplicita del mio debito di cui lì io parlo ampiamente verso Don Giussani cioè Don Giussani non è stato solo colui che mi ha insegnato la logica dell'incontro e il tipo di vita che ne deriva ma partire dalla realtà partire dalla realtà e assecondarla criticamente mi ricordo uno dei primissimi raggi che quando c'era ancora il vecchio palazzo di via Statuto al sabato pomeriggio si faceva il raggio per gli incontri per coloro che erano già andati all'università durante il tempo buono su un enorme terrazzo che c'era altrimenti nel salone che c'era in basso e mi ricordo questa 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 lezione o dialogo sul realismo il partire dalla realtà assecondandola criticamente e questo è stato il criterio che io ho seguito per la dopo ci sono per la vicenda del dialogo con l'Islam eccetera adesso non possiamo raccontare la genesi perché sennò l'incontro che io ho fatto da masco con sette patriarchi e vescovi dei vari riti cattolici orientali che mi hanno provocato a fare questa idea del meticciato ecco il meticciato è un processo che è in atto cioè in questo momento ci sono dice l'ONU circa 250 milioni di persone che sono in movimento sul pianeta facciamo stare l'esempio lì di qua di quelli che vogliono andare in America eccetera ma ecco quindi tutti hanno pensato ovviamente certi che io fossi sincretista che il meticciato volesse dire che allora mettevamo insieme le religioni mettevamo insieme le culture io infatti ho parlato di meticciato di civiltà di culture ma adesso sta diventando anche un meticciato biologico e infatti lo spunto uno degli spunti che mi ha dato l'estero è stato una volta in un paese della diocesi di Venezia di Bonircomare ricordare il nome c'era il settecesimo che era diocesi in antico il settecentesimo anniversario della creazione della diocesi alla fine della messa la professoressa delle medie aveva preparato così un piccolo una pièce un piccolo teatro utilizzando il verbale del notaio che aveva scritto tutto quello che si era svolto e l'ha fatta recitare in dialetto in lingua veneziana se dici dialetto ti storcono la testa e a un certo punto mi sono accorto tirando su erano un po' stanco queste cose che ti infliggono perché sei vesco sono come le altre quando ti chiamano a fare la ciliegina da mettere sulla loro torta bisogna difendersi sempre da queste due cose qui ho tirato sulla testa ho visto un nero un ragazzo nero che parlava un dialetto nero spettacoloso dopo di lui uno dell'est europeo idem e allora cos'è quella roba lì? è un processo innato noi siamo capaci siamo in grado di fermare i processi della storia no noi li possiamo solo assecondare e criticamente quindi il problema dell'immigrazione come dire deve farci affrontare da una parte le paure e dall'altra parte per affrontare le stesse paure perché è facile dirla no se tu hai vissuto 30 anni al settimo piano di un palazzo delle case bianche che è già di per sé degradato a Milano e ti trovi sullo stesso pianelotto tre o quattro famiglie e cominci a sentire gli odori delle le spezie che usano a vedere dove mettono le scarpe a vedere come si comportano cosa fanno insomma un pochino insomma non è così semplice quindi la paura va educata cioè condannare la paura o sfruttarla ancora peggio che condannarla è un errore gravissimo il problema è che non si è fatta ancora fino ad oggi non del tutto perché mi sto parlando dell'Italia adesso non si è fatta una politica adeguata per l'accoglienza mettendo in campo i tre soggetti che possono farla la chiesa che fa il buon samaritano noi siamo quelli che accolgono in prima battuta se io salendo le scale in cespico e cado uno viene lì a darmi una mano non mi aggiusta il piede se l'ho rotto poi poi la politica che io già da allora quando ne parlai per le prime volte nel 2001 2002 dicevo che ci voleva un piano Marshall per tutta quanta la realtà adesso vedo che lo dicono anche un po' di politici speriamo anche che lo facciano e poi c'è la società civile che sta già facendo un eccellente lavoro i nostri oratori sono pieni di ragazzi islamici all'oratorio estivo ci sono tantissimi ragazzi islamici che partecipano ci sono spazi di accoglienza per insegnare l'italiano alla prima farete anche qui questa cosa alle prime generazioni c'è tutta una realtà pastorale molto accurata circa una trentina di come dire di parrocchie personali dedicate e la fatica e lo sforzo di immettere se non la seconda almeno la terza generazione direttamente nella vita normale della nostra chiesa che sono fedelico infatti il mio successore ha fatto un sinodo geniale intitolato chiesa dalle genti purtroppo il giornale ho scritto sempre delle genti dalle genti come tutte queste genti che arrivano a Milano stanno cambiando Milano e come la chiesa deve cambiare per accoglierli e che ricchezza questa cosa rappresenta quindi il meticciato è il destino dell'Europa dell'Europa e quindi io penso che ovviamente è un problema enorme che ci accompagnerà ancora per qualche decennio ma come Dio si rivela a noi nel quotidiano nelle circostanze e nei rapporti che sono la trama e l'ordito della realtà circostanze e rapporti e questo già si poteva dire io l'ho anche scritto nel 2004 che quando arrivavano dall'est e ho detto quando si muoverà o dal nord Africa o dall'Africa mediterranea quando si muoveranno quelli sotto il sala sarà come in quei film vi ricordate del medioevo in cui c'erano quelli dentro il castello pieni di armi e la pece questo e quest'altro i merli i merletti e arrivava la massa degli invasori a prima vista dicevo questi qui cosa faranno poveracci sono degli straccioni ma erano così tanti talmente tanti talmente tanti che a un certo punto sfondavano i muri che entravano e quindi sono partiti dal sud del sala e stanno venendo qui ci siamo fatti vedere da tutte le nostre sacrosante televisioni ben seduti e ben pasciuti a banchetto e possiamo pensare che chi non aveva niente da mangiare non volesse partecipare un poco di questo ben di dio dopo è diverso che se quando vengono quindi dobbiamo superare il pregiudizio noi cioè per me il dinamismo della conoscenza parte sempre dal pregiudizio il problema è lavorare su di sé per portarlo a verità e non farlo diventare ideologia ideologia e poi addirittura utopia in questi giorni per la prima volta si è parlato anche in occidente di questa terribile tragica operazione di stalin della carestia procurata in ucraina che ha fatto fuori 8 milioni e questo ha rifiutato il grano che gli stati uniti le potenze le potenze europee fornivano stalin non l'ha voluto perché voleva farli fuori allora io non so ripetere questo nome ma olodomor 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 ecco qui l'esperto io ho percorso un pezzo di quella strada lì che hanno lasciato con tutte le buche così com'era con il adesso è morto con il vescovo di Kamenius Podoski Ochainski perché il loro seminario aveva una scuola di teologia collegata con la Terano ero andato a visitarli e mi ricordo che a un certo punto davanti a una buca enorme per la quale siamo dovuti saltar giù dalla macchina mentre siamo scesi lui mi ha guardato in faccia e mi ha detto sa che io pur essendo vescovo e dovendo carità e perdono verso tutti non riesco a non dire non riesco ancora a non dire che Stalin non era un uomo ma era una bestia riferendosi a quel che aveva fatto da quel punto di vista lì quindi quando il pregiudizio se lo si lascia andare è inevitabile partire ma se lo si lascia andare e diventa utopia è una bella tragedia è una bella tragedia bene di Giussani non c'è bisogno di parlare in fondo leggere e tenere lì però no non c'è bisogno di parlare per il motivo che dico che il carisma di Don Giussani vedendo sentendo parlare e vedendo come umanamente si atteggia Don Angelo il cardino a scuola vuol dire assistere a un'espressione del carisma di Don Giussani però è di pragmatica chiedere all'ostetrico chiedere all'intervistatore al termine di una presentazione di un libro intervista qual è la domanda che avresti voluto fare non hai potuto ti è rimasta nella testa l'hai dimenticata la domanda che dopo ti sei accorto che avresti dovuto la domanda da 100 milioni no la domanda da 100 milioni no c'è una domanda molto veloce perché ormai è tardi che si impone perché abbiamo scritto il libro prima allora vorrei chiedere al cardinale abbiamo già parlato e mi ha commosso molto quando parlava di questa affezione che dobbiamo avere alla chiesa e però oggi c'è chi dice che c'è in atto una guerra civile nella chiesa allora la domanda è è d'accordo con questa espressione e in ogni caso c'è un nemico particolarmente insidioso che si profila all'orizzonte da cui dobbiamo guardarci no io sono pieno di speranza io beh anzitutto perché l'espressione non della nostra fede fa parte il domma dell'indefettibilità della chiesa cioè lo spirito santo ha garantito l'indefettibilità alla chiesa perché la chiesa non vi è meno fossimo i due ci sarebbe la chiesa pensate cosa è successo in Cina pensate cosa è successo a Vantuan 25 anni di campo di concentramento celebrava avendo risparmiato una botticella di vino e una pagnotta mettendo una goccia di vino sul palmo e una briciola per farlo durare faceva la messa e dice voglio dire no io da questo punto di vista sono assolutamente tranquillo non sono superficiale i problemi ci sono e dobbiamo affrontarli sarebbe lo sviluppo della domanda dell'inizio ma questo si può fare in una lezione non in un dialogo come quello di questa sera perché si risulterebbe anche se i problemi sono gravissimi si risulterebbe noiosi io poi va bene chiaro siamo sotto il peso non voglio per nulla sottovalutarlo di questo scandalo degli abusi sessuali da parte del clero che soprattutto negli Stati Uniti pesa in maniera molto molto più violenta pesa dappertutto anche un solo caso di troppo anche uno solo ma io penso che le risorse ci sono perché in tante regioni del mondo la chiesa è ancora una chiesa di popolo io dico concludendo che nella messa di congedo da Milano io ho detto che la nostra perché l'ho visto con gli occhi girando tutto alla diocesi che la nostra chiesa milanese ha ancora delle radici popolari fortissime radici la radice non è l'albero è la radice ma finché la radice è viva i germogli possono rispuntare l'albero può tornare dipende da me dipende da te dipende da ognuno di noi c'è qui il vesco che guida la chiesa che voi siete deve sapere che a priori può fare affidamento sulla tua testimonianza di fede a priori non avrebbe neanche la necessità di andarlo verificare perché pensa e sa chi di noi ha fatto il vesco per tanti anni io l'ho fatto per 27 lo sa lo sa quindi io sono convinto che non solo lo spirito non abbandona la sua chiesa ma noi troveremo la strada che però è lunga perché le due posizioni di cui abbiamo parlato all'inizio hanno delle radici secolari e adesso stanno come esplodendo all'interno anche a causa della libertà che gli ultimi pontefici hanno dato a tutti di esprimersi quindi pregare pregare per la nostra personale conversione l'essere vivente se non cresce muore non ci sono e per crescere bisogna cambiare cambiare in continuazione non c'è nulla da fare non c'è nulla da fare cambiare personalmente e far vedere lasciare Balthasar ha un'espressione bellissima quando la chiesa lascia trasparire il volto bello di Gesù ha fatto tutto quello che doveva fare non ha altro da fare quindi io sono convinto che ci siano molti molti cristiani che stanno facendo questo bisogna stare ancorati ancorati alla chiesa diocesana che deve aprirsi a tutte le forme di realizzazione della chiesa come diceva Rahner valorizzare tutti e chiamare unità se si resta ancorati lì lentamente attraverso la santità qui Paolo VI Paolo VI ha dei testi formidabili sul fatto che la riforma della chiesa implica la santità poi in solo dei santi a di da che cercate ogni giorno il volto dei santi per trarre conforto dai loro discorsi quindi questo è l'augurio che io vi faccio ma adesso non rispondo più a niente no 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 non è più previsto in nessun modo però io ringrazio Su Eminenza per quello che ci ha detto e prima ancora per la prontezza cordiale con cui ha accettato il nostro invito senza farsi rincorrere si vede che l'accoglienza che la Svizzera gli ha dato a suo tempo è pagante è vero però c'è un io devo scusatemi vi devo ribadire l'invito rinnovare l'invito a se possibile a diventare soci della nostra società di amici della facoltà di teologia è molto importante per pagare quelle borse di studio per dei giovani che vogliono studiare qui nella facoltà ringrazio il centro culturale della Svizzera italiana che ha aiutato a organizzare questo incontro mi informano che sempre all'uscita nell'atrio vi ha la possibilità di conoscere meglio l'attività del centro culturale iscrivendosi alla loro mailing list a proposito del centro culturale ci ricordano che il prossimo incontro in programma sarà martedì 11 dicembre in quest'aula magna dell'università della Svizzera italiana ospite sarà Rosetta Brambilla forse la conosci da anni in missione in Brasile con Pigi Bernareggi in occasione dell'uscita del libro di Claudio Caiata La bellezza salva il mondo sarà una serata curata in collaborazione con Aved Associazione Volontari Aiuto allo Sviluppo grazie per essere venuti buonanotte 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 ciao